In piedi rimane solo una piccola porzione dell'antica struttura. Per il resto rimangono solo macerie della scuola Dante Alighieri, edificio storicamente baricentrico al quartiere pesarese di Soria. Negli ultimi giorni è stata infatti praticamente completata la demolizione dell'ex scuola media di Via Gattoni, dalla quale rinascerà un edificio scolastico all'avanguardia sul quale c'è un investimento di 6 milioni e mezzo di euro. Ora il resto dell'estate vedrà operazioni di rimozione dei detriti per poi procedere alle verifiche belliche e alla predisposizione di pali e fondazioni della nuova scuola. Sarà un nuovo edificio da 21 aule per ospitare i ragazzi di elementari e medie temporaneamente traslocati a Pesaro Studi in Viale Trieste. Un nuovo edificio che si svilupperà su due livelli, il piano terra su Via Gattoni, un secondo piano dall'ingresso sopraelevato di Via Fedeli, una scuola che dovrebbe vedere la luce nella seconda metà del 2025. Si tratta della seconda demolizione portata a termine in questo mese di giugno dopo quella della scuola Anna Frank di Santa Maria delle Fabrecce, dove già in fase di completamento la rimozione delle macerie. Quello sull'Anna Frank è un investimento PNRR da 3 milioni e 600 mila euro che creerà una nuova struttura in legno predisposta ai massimi livelli di efficientamento energetico con ali allungate che forniranno ambienti luminosi e distribuiti su due livelli. Il cronoprogramma prevede la consegna della nuova scuola nella primavera 2026.